segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma sinceramente non lo so normalmente viene messo commissario presidente di regione oltretutto devo dire che con il terrimoto bonaccini si è dato un grande affare normalmente va così però le indiscrezioni sono indiscrezioni io sto ai fatti allora stiamo ai fatti se lei avesse oggi incarichi di governo come peraltro suoi colleghi compagni e amici di partito anno da dove partirebbe prima il suolo o contemporaneamente difesa del suolo e politiche per mitigare i cambiamenti climatici allora partiamo dalle cose semplici io ho avuto la fortuna di lavorare con roberto maroni persona eccezionale e in quei cinque anni regione lombardia abbiamo fatto la legge sul consumo di suolo zero che prevede tra l'altro che tutte le nuove costruzioni devono garantire anche l'assorbimento quindi non cementificare inutilmente perché altrimenti è un problema di acque che se ne vanno via veloci e abbiamo litigato con mezzo mondo per avere le autorizzazioni iniziare i lavori per le vasche di laminazione sul seveso ogni ogni tre per due vediamo la parte di milano nord che viene allagata perché non non sono operative tutte tutte queste vasche ma la difficoltà maggiore uguale è stata i comitati i partiti contro il non nel mio giardino ecco forse forse è la volta buona che hanno capito tutti che certe opere sono necessarie punto e vanno fatte punto c'è un comitato che si lamenta e ce ne faremo una ragione perché altrimenti non si dice se non si sono fatte delle opere anche per quel partito del no e soprattutto per questo ma la stessa cosa per la pulizia dei fiumi e vedono quattro piante e allora di lasciare le piante ma non ha senso i fiumi sono fatti larghi perché ogni tanto c'è tanta allora prima di arrivare a